Il granatore Valerio Mastandrea Prego Com'è stata la tua esperienza con noi Terribile Ancora mi devo riprendere E' successo che tutti Ore e ore di insegnamento Accurato, poi ho sentito appunto L'intervista, non so servite a niente Praticamente Si, soggiorno ha detto che sei rusicato Quando hai visto la borsa di Napoli E' vero? E' lui che me la sbatteva in faccia Ogni volta che passavo, è vero? Poi? Altre domande? E' stata una bella esperienza Che spero di dimenticare presto Però è stato bello Prima non ti conoscevo Dico la verità Si, tu conoscevi Valerio P No, come? No Ma neanche adesso mi ricordo Qualcosa dici per noi Che per prossima Sì Ti devo raccomandare Per fare l'attore No Perché è peggio Qua se ti raccomando io Fatti una domanda da solo E risponditi da solo Cosa faccio nella vita Quello che faccio? Questa è la mia domanda sempre Cioè E perché faccio? Con un maestro Non si può parlare Perché Va bene Ma come persona Non No No Intoccabile Posso dire questo Venite 16 gennaio Al cinema Vedere La mia Classe La nostra Mia Classe La mia Questa è la mia Grazie a tutti